ciao ragazzi ciao a tutti per i trovati qui sul mio canale siamo ancora qui alle prese con la cosa qui c'è Whitley che scappa e in teoria dovremmo essere alle battute finale quindi finali scusate quindi sotto con le iscrizioni mi raccomando la maggior parte di quelli che guardano i miei video non sono iscritti poi al canale ed è veramente un gran peccato proprio perché siamo alle battute finali magari suggeritemi altri giochi che potrei portare avventure grafiche orlo sono sempre ben accetti e poi ovviamente c'è sempre quel mio desiderio di arrivare ai 600 iscritti entro la fine dell'anno insomma questi video li sto registrando un po prima di quando usciranno magari per allora li avrò già raggiunti speriamo quindi datemi una mano iscrivetevi a voi non costa nulla ma per me fa veramente la differenza insomma allora qui vedo che ci sono diversi commando devo stare veramente attento devo stare anche attento al livello lì del gelo a presto un po'gerire sono no 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 via, via. Questi stronzi sono ai cecchini sui. Madonna. Col mitra a distanza, beccato prova... Ecco, però la sua mitra mi centrava. devo stare attento perché secondo me ce ne sono sempre degli altri non ha neanche il fucile della cecchina ma che precisione che c'ho devo tornare indietro perché non ho più potrei finire assiderato è bella tosta sta parte non me la ricordavo spero ci sia un posto dove posso recuperare calore ma stavo sparando e non l'ho beccato devo stare attento perché qualcuno potrebbe avere i fucile da cecchino ma come infatti lo sapevo però sono stato sciocco potevo prendere qualche munizione prima quando ero tornato indietro e non l'ho fatto vedo qualcuno c'è una caverna qui vedo qualcuno laggiù però prima mi rifugio qua dentro ah bene bene ci sono munizioni del fucile anche qui non male uh guarda qui i medikit si nascondevano molto bene molto bene oh no 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 l'avevo visto vieni fuori cane mi becca sicuro allora aspetta rientriamo dentro e facciamo un salvataggio così almeno siamo sicuri non devo ricominciare dall'inizio ah guarda là c'è la riunione c'è devo sprecare la munizione non so cosa stessi sparando ma io ho sparato bene uuuu vedete quanto è sto stronzo sta bello appostato col lanciato piano ah muori cane eh lo sapevo guarda quello c'è il fucile da cecchino facciamo così è morto morto uh no 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 madonna sto inventario del cazzo ancora vediamo se riesco a beccarlo da qua questo sei andato sì mi sa di sì che palla c'era uno lì però non mi sa che sei andato sì si era spostato molto probabilmente bene però aspetta torniamo alla grotta perché sono senza... sto congelando insomma ok allora cercavo qualche munizione per il fucile da cecchino ma non c'è intanto metto il mitra mi sento più sicuro poi se ci deve essere ecco 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 ci divertiamo un po' ecco ecco così almeno facciamo un po' di piazza pulita ci divertiamo un attimo ecco 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 aspetta bene ecco credo che non ci sia nessun altro voglio sperare cavolo però sta finendo aspetta ma fammi tornare fammi tornare alla grotta l어 se ci riesco ma non credo Non credo che riuscirò a tornare alla grotta Ma almeno mi metto i medikit appresso Cioè seleziono i medikit così Sto sicuro almeno Dai 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 che ce la fai Grande Meno male Devo prendere qua le munizioni Almeno quella Che cavo Anche questa Ok Ah in teoria non ci dovrebbero Ah bene Almeno quella In teoria non ce ne dovrebbero essere più di nemici qua Spero Voglio sperare Lì non credo che ci sia nulla Quindi andiamo là in fondo Vediamo Sembra di vedere qualcosa sulle case Sì C'è qualcosa sulle case Bene Che granata Non fa mai male Che c'è qui? Ah un mitra Oh vabbè Ah vabbè Potevo evitare Dio non di dire Ah Non è che pensavo si interrompesse il livello Qui La partita finisce qui Windley Non credo Io ti controllo In questo momento controllo ogni uomo su questo continente Il tuo ridicolo sabotaggio alle consegne ha soltanto ritardato l'inevitabile Una squadra d'evacuazione sta venendo qui Una volta preso l'elicottero inizierò a diffondere l'infezione globale Finita dici? La partita è appena cominciata Che cazzo È immortale praticamente Ma che cavo C'è un po' di roba da raccogliere E' l'etichetta Intanto mi curo dai E salvo qui Ok Andiamo di qua No Ma lui tranquillo Stava andando di nuovo Non è successo niente No C'era l'olio lì Che cavo è saltato in aria Perché Ah è vero che qua le guardie sono stupide Sì si fanno saltare in aria Se li fate avvicinare A le bombe E non Come se non le vedessero Non so se è un bug Che insomma è un errore abbastanza profilano Gli sviluppo a due Mori Di là? Dove siamo? Ah ok si ritorna all'inizio Quindi è di qua che è scappato Witt No Immaginavo ci fosse qualcuno No Lanciamo un po' di granate Facciamo un po' di polpette qua Guarda quello Che gli è successo? Ragdoll proprio Comunque l'onda d'urto di ste granate È scarso Devo provare le altre Vediamo Prendiamo queste qua Perché quello è veramente scarso Cazzo guarda qua Ah insomma è molto più ampio questo Sì direi proprio di sì Molto bene Molto bene Vediamo il mitra Mi sento più sicuro con il mitra Cazzo no Mori Mori Stranzo Eh qua escono a tradimento No Vediamo le polpette C'è qualcun altro Sì Qui c'è ancora gente Cazzo no Cazzo no Forse c'è pure qualcun altro C'è troppe polpette Cazzo Spavento Vieni 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 Passa Facciamo altre polpette Eccole qua Pieno di polpette Vai Ok Ok A questo punto farei un salvataggio Perfetto Perfetto Non ricordo a sto punto Cavolo Qua c'è da andare di cerchino e basta Sono tutti là Sopra quella torretta Questi rumori che sentite Sono quello che sparano Ce ne sono un po' eh Mi conviene Zoomare E poi zoomare di nuovo Ah cazzo Sono cecchini incredibili però Sono bravissimi Secondo me ce n'è qualcun altro Riprendiamo un po' di Calore Curiamoci Eccolo là C'era sminchiata la visual Credo di aver finito Sì Ho finito Eeeh Hai visto che Vabbè In teoria dovremmo Avere un ultimo filmato da guardare Quindi andiamo di qua E poi ci sarà praticamente L'ultimo livello Va bene ragazzi Io come sempre vi ringrazio per avermi seguito Se il video vi è piaciuto lasciate un like Iscrivetevi al canale Attivate la campanellina delle notifiche E noi ci rivediamo nel prossimo video E noi ci rivediamo nel prossimo video Ciao Ciao